Giovanni Ducci, Pasta per due, capitolo dodici. Più tardi. Per vincere il torneo dobbiamo giocare tutti i giorni a briscola, dice Libero. Allora cominciamo subito, dice Minni. Aspetta, il torneo è a coppie. Per allenarci bene dobbiamo giocare con altre persone. Possiamo invitare Giuseppe ed Elena. Anche loro amano le carte. Così Libero invita i suoi amici. Le due coppie giocano a briscola tutta la sera. Fanno molte partite. È Libero e Minni vincono sempre. A mezzanotte Giuseppe ed Elena devono tornare a casa. Siete troppo forti per noi, dice Giuseppe. E tu Minni sei bravissima. Grazie, dice Minni. Giochiamo anche domani? Va bene, domani venite voi da noi. Ma la mattina dopo Libero si sveglia e... Cosa c'è, Libero? Non stai bene? Domanda Minni. Ho il raffreddore e la febbre. È la pioggia di ieri. Allora oggi non possiamo giocare. No, sto troppo male. Libero rimane tutto il giorno a letto. Ha la febbre molto alta. Anche il giorno dopo le cose non cambiano. Passano altri giorni. Quando arriva il 28, Libero è ancora malato. Mi dispiace, Minni. Non possiamo andare al torneo. Ora devi pensare a stare bene. Il torneo non è così importante.